Certo che come ho fatto il pesto all'aglio orsino, il sal all'aglio orsino, anche il burro, adesso ho fatto il formaggio all'aglio orsino, non poteva mancare all'appello. Allora qui abbiamo mezza pezzettina di formaggio, qui abbiamo una intera e qui abbiamo fatto anche la ricotta. Bene, questo è quello che abbiamo fatto oggi, domenica, 29 o 28, 28 aprile. Allora, ecco qua quando è bello. E questo lo mettiamo a curare, ma ce lo mangiamo fresco però. Qui abbiamo il siero, che anche questo non va sprecato.